Aspettate, fate così, signor. Aspettate. Il pomodoro è poco frutto. E' pieno di loro. Signor Pio, c'è il vostro posto e la tenata. Se non avete mangiato il pane, facciate un po' di pane. No, forse la tenata. E io mi prendo le fiere in l'acqua. Scusate, se lo facciate. Ma pigli il tuo carrellino. Ti piace? Com'è un'acqua? Prendetemi il carrellino. Il pomodoro? Eh, signor Pio, senza la memoria di altri. Prendetemi il pomodoro. Qui si fa così. C'è pure l'arancia. C'è pure l'arancia. E poi c'è questo. E poi c'è questo. E poi c'è il pomodoro. Ah, c'è il pomodoro. Ma c'è quello? Per me. C'è quello, che sarò? E poi c'è quello. E poi c'è quello, che c'è quello. Grazie. No, no, quelle stanno l'isola dietro, non escono. Vediamo. Vediamo. Quella è la Europa. Sì, quella è la Europa. Sì. Sì, sapete, meglio dire... Ma vedi la Europa. Vedi la Europa. Ma vedi la Europa. Ma vedi la Europa? Ma vedi la Europa? Mh...